Sì, anche questo è un impegno che ci aveva chiesto il Parlamento, anche una serie di ONG, di personalità molto impegnate nel Corno d'Africa. Abbiamo nominato l'ambasciatore che quindi presenterà le credenziali nelle prossime settimane. Stiamo chiaramente valutando e lavorando tutti gli aspetti di sicurezza perché chiaramente la riapertura di un'ambasciata in un luogo così delicato richiede chiaramente un'attenzione molto particolare agli elementi di sicurezza, ma ci stiamo lavorando.